Ragazzi, guardate questo effetto, questo speciale, dimmi sto, quando vuoi? Ok, questa è la tua carta, metti la mano sopra, ok? Ma dimmi sto, quando vuoi? Posso guardarla? No, no, quando vuoi? Quindi anche a fine mazzo? Anche no. Sto. Prendi la carta. La prendi. Ok. L'ho presa. Sette di picca. La guardo o no? Metti la carta. La scena. Questa, dieci di fuori. Ragazzi, c'è dieci di fuori, io prendo e me ne vado. E ora vai. Ciao, stavo volendo. Arrivederci. Ah, dove vai? Vai, vai. Buon viraglio. Oh, stai qua con il mio. Sto facendo a te, guarda, guarda. Una carta, tocca la carta. Guarda, questa, questa. Guarda, guarda. Guarda qui. Vicente di picca. Vai, gira. Vai, gira. Carissimo. Tocca la carta, tocca la scena. Questa, ok, la puoi cambiare se vuoi. No, ok, guarda qui. Passo di piccoli. Ah, questa è la massima. Deve essere per vecchi anni. No, ok, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui.